ciao a tutti bentornati dopo aver visto come si preparano le slide andiamo a vedere qualche consiglio in vista della presentazione parliamo di quelli di che riguardano la comunicazione primo consiglione è preparatevi 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 e fate delle prove provate continuamente in modo da gestire bene quelli che sono i tempi e vocaboli che andrete esprimere e alla fine quando siete preparati andate a farvi una bella registrazione della prova generale che vi serve intanto per vedere veramente come parirete davanti al pubblico secondo luogo anche per gestire meglio i tempi e quelle che sono proprio il linguaggio non verbale la seconda motivazione che non è proprio minoditaria è quella che in futuro magari vi servirà a rivedere la presentazione magari anche dopo anni e se guardate solo le slide quello non sarà sufficiente farvi ricordare qual è il tema vero guardando invece un filmato della vostra presentazione tutto vi tornerà immediatamente alla mente e poi terza e non ultima se fate spesso soprattutto delle presentazioni può capitare che qualche impiccio vi impedisca di arrivare all'ultimo momento al luogo della presentazione in quel caso lì avete anche qualcosa un filmato da spedire all'ente organizzatore in modo che sia da faccia da sostituto alla vostra presenza certo è meglio di persona ma almeno qualcosa avete andiamo a vedere adesso invece come evitare il disastro qual è il disastro peggiore che può capitarvi dopo aver speso tempo prepararvi tutta la vostra presentazione è questo che il momento che siete lì la vostra presentazione non si vede o si vede male come può succedere sta cosa qua andiamo a vedere allora se usiamo dei software online come canva quello che abbiamo usato o google presentazioni avete visto lavoriamo completamente grazie alla connessione con la rete internet per i vantaggi però eccola lì se non c'è internet non c'è presentazione quindi avete anche una problematica in più eventuale tecnica da gestire sappiatelo se invece usate dei software più tradizionali offline come powerpoint o come impress qui questa problematica di internet non ce l'avete ma avete altri tipi di problemi soprattutto se mantenete il formato originale cioè il file di punto ppt o pt per impress perché perché può capitare che il computer dell'organizzatore dell'evento non abbia il vostro software sopra ma soprattutto non abbia i vostri font e se non avete i font tutta la slide dal punto di vista grafico tutte le slide non solo una verrà completamente sballata dopodiché ricordatevi che se non avete incorporato tutti quelli che sono i file esterni come i video alla fine non appariranno molto molto rischioso e allora cosa si fa c'è sempre la via d'uscita ma dovete prepararla prima cioè dovete prepararmi prepararvi delle copie di file diversi o meglio le vostre slide dovete salvarle offline in un formato standard che standard intendo che possa essere aperto da tutti i browser o da tutti i sistemi operativi proprio con software nativi senza dover installare alcun software specifico e dovete salvarlo ovviamente offline cioè fisicamente questo è un consiglio che do in generale per tutto quello che è importante e fatto al computer perché è vero che i cloud sono utili e vi garantiscono ovviamente in futuro quello che sarà la perpetuazione del vostro del salvataggio dei vostri file però può succedere che anche i cloud falliscano anche dal punto di vista economico ma come è successo qualche settimana fa qualcuno ha preso fuoco e ciao ciao dati degli utenti persi per sempre quindi comunque una copia fisica ci vuole sempre andiamo a vedere invece quali sono i tipi di file standard che da quel punto di vista qua vi consiglio il primo in assoluto il pdf pdf è un file che ormai non è più neanche proprietario è formato semilibero è un file di buona qualità non di grandissima dimensione che permette di avere queste caratteristiche aspettate che vi tiro via eccole lì avete la possibilità di avere i font originali dentro e quindi tutta la grafica vettoriale è ancora vettoriale come nei formati nativi e quindi se ingrandite ad esempio la risoluzione delle parti grafiche sarà ancora buona a parte la fotografia che ovviamente invece quelle diventeranno un po' più pixelose e poi i link ecco i link esterni possono essere garantiti e quindi se avete un link cliccate su un pdf il link si aprirà sempre che abbiate una connessione internet se invece volete portarvi dentro dei file video o delle animazioni ai 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 il pdf qui ha la sua limitazione però è una limitazione che vedremo in qualche maniera ovvieremo anche se potreste anche avere l'interno del pdf ma è un processo veramente lungo e oneroso vi faccio vedere invece l'altro formato perché perché a parte quello che è ecco che riappallo allora a parte quello che è il formato pdf che è buono pdf potrebbe essere quando diventa pesante perché avete molto slide potrebbe diventare veramente troppo pesante per il computer dell'organizzatore dell'evento e quindi perché comunque una codifica anche grafica di ogni slide dopo magari sono veramente tante potrebbe rallentare andare in crash e poi ricordate vi avete un file con tutte dentro le slide se questo file si corrompe perdete tutto quindi consiglio di aggiungere non in alternativa in aggiunta di salvare anche tutte le vostre slide come singole immagini come si fa c'è un bottone apposito salva slide come jpeg o in questo caso png che sono i file che sono più standard all'interno insomma del mondo grafico e quali sono i limiti di questa cosa e quali sono i vantaggi allora il vantaggio è assolutamente che ci sono dei file singoli quindi se si corrompe un file tanto avete tutti gli altri perdete una slide non tutto è sicuramente molto leggero perché riguarda il sistema operativo aprirlo ma vi garantisco che in questa maniera queste slide si vedranno veramente ha dei limiti sì certo sono tutte quelle che le potenzialità precedenti non li ha cioè non potete avere della grafica vettoriale ma se non ingrandite non ve ne frega nulla non potete avere il link dentro non potete avere dei filmati o delle animazioni ma nel caso proprio vogliate delle animazioni dei brevi filmati potete salvare non in jpeg png ma in gif animata quindi passaggio pdf passaggio formato jpeg o png insomma formato immagine eccoci qua e i video i video semplicemente vi portate dietro se avevate fatto delle slide con dentro dei video questi video da qualche parte li avete quindi li salvate vicino al pdf delle slide certo non si aprirà all'interno del pdf ma quando arrivate a quella slide lì a fianco aprite il video a se stante e se questi video fossero online e quindi e non ci fosse internet assolutamente dovete salvarvi i file da internet in una chiavetta da qualche parte poi vedremo e poi metterli a fianco sempre il pdf come si fa ci sono tantissimi servizi online che lo fanno insomma è facilissimo basta un po googlare li trovate al volo nel momento che avete fatto tutto questo cosa dovete fare dovete andare a spedirli prima di tutto l'ente organizzatori solito con una mail così avete anche una copia online da qualche parte vedi anche solo nelle mail inviate del materiale e poi partite cosa migliore sarebbe portarsi dietro il computer usare quello ma l'organizzatore per problemi tecnici o per motivi tecnici ovviamente non ve lo permetterà mai perché per ogni relatore sennò sarebbe veramente un disastro però se volete portarvelo dietro a volte mi è stato utile la cosa più intelligente invece salvare come vi dicevo tutti i file in una memoria esterna tipo un usb o una chiavetta usb o un hard disk esterno insomma una memory card come nelle immagini e dopo anche nello smartphone soprattutto se fate tante presentazioni nello smartphone portarsi una copia del vostro pdf o delle immagini è molto utile perché intanto cominciate a ripassare il momento che aspettate che sia vostro turno e proprio nel caso di peggiore di crash totale che è quello proprio quando il computer del relatore poco prima che vi tocchi comincia ad andare in panne potete utilizzare il vostro hardware cioè il vostro telefono in questo caso per mandare direttamente l'immagine vostro schermo cosa serve serve per date che vi sposto un attimo serve semplicemente questo cavetto che è un cavetto che costa meno di 10 euro che vi permette di collegare la porta usb che può essere c o anche micro usb alla vostra porta hdmi sicuramente quella che ha o il proiettore o lo schermo o la link che serve a voi per proiettare quindi se fate una presentazione vi consiglio di comprarvelo di solito gli enti e organizzatori ce l'hanno ma se avete se avete le vostre immagini nello smartphone proprio avete proprio l'ultima speranza di poter far vedere al pubblico le vostre slide e con questo in realtà si conclude tutto il nostro bootcamp io spero che vi sia piaciuto o qualche maniera vi sia stato soprattutto utile e adesso continua per chi vuole e vi faccio vedere appena dopo siete con me un paio di minuti vi faccio vedere come si salva o meglio come si registra un filmato con telecamera microfono e slide assieme con canva se non avete canva farò la stessa cosa ma farò un video apposito su come utilizzare invece su qualsiasi servizio online e questo tipo di registrazione utilizzando il browser quindi insomma ci sarà anche per gli altri la possibilità di realizzarlo non vi resta ancora altro che salutarvi e a presto ciao ciao bene siamo pronti adesso per la nostra registrazione della prova generale con canva andiamo direttamente su software eccolo qui online questa la home ho preparato una slide breve anzi da quattro slide semplici giusto per vedere vedete qua sotto come funziona andiamo prima però a vedere come salvare le nostre slide in formato immagine andiamo su in alto a destra iconcina freccia per lo scarica invece di pdf standard andiamo a selezionare o jpeg o png io preferisco di solito png qui c'è la possibilità di selezionare o tutte le pagine o solo alcune una volta che abbiamo deciso cliccate su fatto anzi sul fatto lo vedete qui scusate eccolo lì su fatto e una volta cliccato vi apparirà finestra di dialogo di richiesta dove salvare le immagini anzi il file che è un file zip che contiene tutte le nostre immagini a noi interessava però principalmente andare a vedere come fare la registrazione quindi in alto a destra tasto tre puntini presente registra vi si c'è questa finestra di dialogo che vi fa accedere allo studio di registrazione che è questo andiamo ecco qua vi si era chiesto quali sono i software o meglio gli hardware per cui riguarda la registrazione in questo caso uso questo usb perché questa qui ce l'ho già occupata da obs e un altro microfono che in realtà in questo caso è eccolo qua questo vedete come balla non mi resta altro che avviare la registrazione vediamo che succede avviamo prima di tutto vedete che sotto avete una finestra di dialogo che vi permette di registrare solo la parte dello schermo e sotto intanto potete andare a cambiare le slide tranquillamente quindi non vi disturba però andiamo a vederlo 1 2 3 via ciao a tutti bentornati al nostro bootcamp oggi parleremo di consigli in vista della presentazione una volta che avete fatto la vostra presentazione avete visto clicca su termina la presentazione apparirà subito la finestra di dialogo che è quella di caricamento del vostro file del vostro video all'interno dei server di canva ed ecco qui una volta fatto sarà molto più lungo questo è stato breve dipenderà dalla lunghezza del vostro filmato c'è questo link che copio perché vi permetterà quindi canva di utilizzare gratuitamente dello spazio del suo cloud e di dare direttamente un link a chiunque voglia per vedere il vostro filmatone a noi però non basta che vogliamo essere sicuri vogliamo anche scaricarcelo cliccate su scarica come vedete apparirà la finestra iniziale qui sotto un attimo che ve lo faccio vedere eccolo lì c'è lo slide che sta crescendo perché si sta caricando o meglio sta formando il file che è un file mpeg 4 che è un file di formato diciamo standard che è leggibile da qualsiasi tipo di software nel momento che ce l'avremo eccolo qua apparirà finestra di dialogo per fare la registrazione sopra scrivo questo che mi piace di più così almeno ce l'ho come ricordo chiudo il tutto e non mi resta altro a questo punto veramente di che salutarvi e darvi appuntamento ai prossimi video all'interno di questo canale insomma e sperando che il bootcamp sia stato utile ciao ciao